Guardo gli orari, c'è un freno che fa Roma pari Scendimi lego sui pinari, ci sono troppi pari Ma tu cazzari che pari? Infami, sensari, pari, pari Ma non siamo pari, se mi spari tu hai salari Pari, sbari, inventari, con 10 cifrari da papsari Ma ora flega i collari, che supera i tuoi calpari Sono pieno di divari, dico diari, su diari Troppe rime ma sei affari, cash, ti prego a pari O faccio il bacco scoppio, ci sto sotto il lotto da cotto Ma mi intoppo se mi scoppo, veramente rischio troppo Fai musica da sanotte, ti gonfio come un canote Così che mi comporto, me ne ti scoppo Troppo se vi incallotto, mi sveglio dopo un pizzicotto Dalle donne vengo seduto, se faccio il serio non voto Ormai è tutto un risotto, ma non ci diceva minestrone No coglione, io posso, io ho cambiato motto Non lo sai tu chi sei, non lo so io chi sono Non lo sai tu chi sei, ma io voglio il tuo Non lo sai tu chi sei, non lo so io chi sono Non lo sai tu chi sei Quando vedi le vietite, raffichedi E già lo scuota, bicchieri Ci credi? No Stile sollevante, non campa sul suonevante Ogni due giannevolante, la burnout sul volante Dici che fai aprire le gambe, che scoppi con tante Ma gli dai il contante, e gli dai il contante Già sulle braccia, bampe, focacce In bocca con le trance, vi serviranno i bambes Ma tu sei, sti da fende, non comprendi Staci che prendi, dispendi venti stipendi Ma senti i clienti, lo rendi, sorriti perché pendi Con seno efficienti, ambienti e valenti La scena evidenti, segni, si daggi e non frequenti Me che sono più tranquillo, ti vedo trillo, brillo Perché il gingillo me lo scippa, destillo Perché ti vede, scintillo, stossine mi attillo Ma quando strillo, beh, strillo a me, me va una rifa Non lo sai tu chi sei, non lo so io chi sono Non lo sai tu chi sei, ma io voglio il tono Non lo sai tu chi sei, non lo so io chi sono Non lo sai tu chi sei, ma io dei due chi sono Qua una rima, che ti reprima o deprima O ti faccia, tipo aspirina, al di fuori di ciò che sprima Questa è l'anteprima, e non sono solo rime che è spiderina Perché vincerò prima, andrò in cima, qualunque sarà il clima E tu pulirai la mia polvere, milipina Rap terapeutico, medicina, proteina, enzima Il mio è propiettivo, il tuo, ma di incina Io ti bevo carciopo come se bevo il Cinar Spagno rime, mi precedono, procedono Il mio merito, e merito ciò che loro chiedo Ne ti inviedo, perché il mio stile confrontavo Ti metto in culo un bananego, l'incontro è scontato come Iron Man Contro magneto, tutto rotto di siano ferro Io ho memoria di ferro, voto tra poco gli occhi Come i paparazzi in guerra, e per la parata non ho paraocchi Come i paparazzi in guerra, e te lo metto un culo A te le vedi per spastiche La vedo bene, te lo io 10 euro lavagna, bro Ma sì, dai Anche se non eri, diciamo, da lavagna Per dire, no? Non sapete come funziona lavagna Però stasera sono buono, dai, cazzo Per dire, come aén, cazzo Tutti come lunежon Tutti come lunежon Come ecco la ma che stai a fa ricordate che squali stane arriva e benvenuti in questa nuova trasmissione grazie anche a data the mentor cioè il mentore di data siamo un po bianchi marco comunque mi sa che la situazione climatica è talmente assurda che ho linkato non uno ma ben due link di adrian fartate ti ha proprio preso il caldo alla testa no e non per prenderlo per il culo e allora proprio ti è impazzito due link seri da commentare seriamente strano però è strano assurdo voi dovete sapere che davide è arrivato da casa sua qui a piedi con 40 gradi emergenza meteo raggio uv esatto che potrebbe far impazzire le persone il caldo infatti non sto molto bene per una motivazione diciamo molto seria non posso prendere la bici e domani 42 ah beh buono 43 43 43 beh uno in più importante grazie pink sì purtroppo per un po' ho dovuto sospendere la mia attività da ciclista la tua genetica nera forse ti può proteggere in qualche modo dai raggio uv dai raggio uv sì ah sì vabbè l'ho accennato nella live ieri se volete ne parliamo è interessante come tema di che? prostatite oddio no vabbè accenno velocemente dato che ieri mi sono dovuto prendere una roba per bocca e mi è uscita essenzialmente non posso prendere la bici perché mi sono autodiagnosticato e poi ho trovato conferma ovviamente in un medico ovviamente nel senso che poi che sono consulto ne ho preso medicina a cazzo dei cane vabbè cosa succede? dieci giorni fa ho cominciato ad avvertire dei fastidi inizialmente pensavo alla parte del glande durante diciamo eiaculazione durante la pisciata troppe eiaculazioni magari hai pensato no lì per lì ho detto strano continuo passano altre ore vado a ripisciare sento ancora il fastidio aspetta fammi visionare il pene magari sarà alla punta? non avevo ben capito però c'era un fastidio diciamo la pipì colorazione odore è un attimo ora ci arrivo piano ma ti dico ma ti dico perché ovviamente la mia prima idea è stata vabbè sarà classica candidosi clamidias rotture dei coglioni qua classico però poi ho diciamo esaminato attentamente il mio pene e ho detto no però esteriormente non ha nessun tipo di modifica non è rosso non ha le classiche bollicine l'hai esaminato da vicino ebbè c'è il mio pisello e soprattutto mi sono reso conto che il fastidio era molto particolare per due motivazioni uno avevo ed ho tuttora anche se sto migliorando per fortuna con le medicine la parte inferiore del corpo quindi dalla parte finale del retto addominale l'attaccatura con diciamo la parte bassa zona ileopsoas cioè la parte bassa dell'addome che si attacca le gambe e ovviamente la zona del pube molto rigida molto irrigidita dal punto di vista muscolare cioè tesa ok come se ci fosse un problema nel rilassamento di quella zona là muscolare legamentosa sì anche il pisello cioè tipo nelle erezioni rigido e buono è uno dice buono invece col cazzo per l'appunto perché avete presente le classiche erezioni involontarie tipo quelle della mattina fastidiose ecco malissimo era molto duro ma soprattutto nel momento in cui cominciavo ad indurirsi cominciavo a provare veramente un forte dolore ok qualche giorno dopo il disastro vado a pisciare e durante la pisciata piango dagli occhi questa volta cioè proprio un dolore ragazzi che non augurerei al mio peggior nemico proprio una cosa allucinante quindi ho detto allora non è sicuramente clamidia è probabilmente un batterio quindi potrebbe essere o cistite o o prostatite visto che per fortuna queste cose le avevo studiato ho detto però la cistite di solito porta con sé altri effetti collaterali del tipo pus o anche nei casi più gravi chiaramente sangue nelle urine e cose di questo tipo e mi ricordavo anche che la prostatite può essere ripeto intanto è batterica quindi quella è sfiga però la cistite poi è soprattutto è più frequente nelle donne anche l'uomo ovviamente può averla però è più frequente nelle donne tendenzialmente per la struttura proprio dell'apparato diciamo genitale femminile però ho detto pure dei calcoli no cioè se uno fa fatica ad urinare potrebbe anche essere però era un fastidio cioè era proprio un fastidio dovuto ad una sorta di irrigidimento dalla parte inferiore perché nel momento in cui mi sforzo per pisciare mi fa male perché i muscoli si contraggono sono già contratti per contrarli ancora di più per fare quello sforzo mi creano proprio un dolore atroce c'è anche l'uretrite tra l'altro e quindi ho detto no secondo me prostatite anche perché tra le cause ripeto oltre al discorso batterico c'è la possibilità che sia stata anche la bici ovvero i microtraumi prolungati con magari pantaloncino stretto e bici e buche de roma le famose buche de roma le famose buche de roma e poi infatti insomma ho visto che effettivamente era quello che ho chiamato il medico mi ha detto sì sì sono questi i sintomi mi ha fatto altre domande altre cose che effettivamente risultava inizialmente ho preso va bene antinfiammator lo sto ancora prendendo e adesso nel pomeriggio vado a prendere un farmaco un po' più tosto per fortuna sei un po' affievolito ma ragazzi una cosa veramente devastante cioè avevo ansia per pisciare e la cosa drammatica è che avevi anche la sensazione di non riuscire a svuotare completamente la vescica mamma mia sono passato con la cistide se potrei soffrire diciamo sono propenso ad averla se faccio una vita irregolare mi viene subito la cistide no ma che scopare ma non avete idea pure stamattina quando mi sono alzato tra l'altro prestissimo tipo alle 8 non lo so mi è partito un'alza bandiera misto alla necessità di pisciare stavo malissimo perché mi faceva davvero malissimo tutta la pelle tirata tutta svenata in più tipo la punta tra l'esterno e l'interno proprio la parte centrale tipo la parte centrale dell'albero il fuoco che te lo senti pure un po' duretto interno non so è una sensazione strana di bruciore ti senti una cosa interna io inizialmente pensavo tipo che c'avevo qualcosa all'interno perché sentivo come qualcosa che ostruiva il passaggio e bruciava ma che se poi buona per sentire queste cose sì soprattutto per questo ho provato ho provato anche a farmi una sega ma proprio piano piano l'altro ieri ho detto fammi vedere un attimo perché comunque è consigliato pisciare molto bere molto per pisciare molto in modo che butti via diciamo velocizzi il processo di depurazione dal batterio cioè ragazzi no cioè proprio assolutamente no perché ovviamente c'era un irrigidimento velocissimo ma dolorosissimo e quindi ho lasciato perdere quindi quando faccio una sega da dieci giorni non lo so la prossima sborrata sarà tipo un pagliaccio di ghiaccio praticamente esatto e niente insomma mi pare stia migliorando anche se mi si è creato una sorta anche di bozzetto nella parte diciamo che vi descrivevo prima cioè vicino all'Ileopsoas è un bozzetto che credo sia una sorta di tumore no 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 è una sorta di accumulo credo proprio per questa per queste contratture costanti cioè non si rilassa mai quella zona lì e quindi rimane contratto Renato 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 bozzetto accumulo di sborra può essere eh sì ve lo faccio vedere tanto non è bannabile sta qua che si vede no ma come fai vedere il bozzetto sul rilante io non lo inquadro eh no 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 può Renato aspetta ecco greve ma può essere tipo nazisti è tipo un come si chiama un noduletto muscolare un accavallamento che pari sì perché non si rilassa quella zona lì infatti tutte le vene tutte intratture sulla schiena tipo mi capita e l'arnica mi aiuta una cifra eh il problema è che ci provo ci posso provare eh piano piano arriva fino al minollo spinale no regredito per fortuna cioè era era più gonfio qualche giorno fa detto questo detto questo eh se non è troppo acuto linfonodi vabbè non esageriamo eh ah un linfonodo potrebbe essere gonfiato per l'infezione è vero eh a me quando cioè non lo so se in questo caso però mi ricordo è quando c'è avuto tipo l'artrite al gomito dove si erano gonfiati questi bozzetti ma quello sì però cioè i linfonodi si gonfiano a me pure le monster è vero mi dicevano che facevano male infatti devo evitare caffeina ah spezie e qualsiasi tipo di alimento che sia potenzialmente infiammatorio e invece sto prendendo degli antinfiammatori non solo diciamo medicine ma anche banalmente il bicarbonato di sodio cioè mi bevo un bottiglione d'acqua la mattina da un litro e mezzo con un cucchiaino di bicarbonato di sodio vabbè ti depuri eh sì quello un po' mi aiuta detto ciò detto ciò io sono molto lieto di annunciarvi che finalmente anch'io ho una posizione nella sdrubbalini SRLS perché fino a mo' c'è sta Gianluca che è il CEO c'è sta Davide che è ufficio reclami Marco è il regista nonché sciamano ma io sono segretario segretario scusami scusami e faccio anche l'ufficio reclami io non ho mai fatto un cazzo quindi mi sono autoproclamato direttore delle risorse umane il top relazioni umane mi piace di più e oggi abbiamo avuto il primo incontro di armonizzazione umana aziendale è stato piacevole devo dire è andato bene vorrei molto bene ha fatto benissimo il lavoro grazie devo dire sì in effetti sai che è una cosa dove effetti vai proprio bene effettivamente sì meno male ho trovato la mia vocazione finalmente in un'azienda almeno il top effettivamente sì è andata liscia proprio come l'olio ci siamo menati un po' io Marco vabbè qualsiasi mezzo è necessario per raggiungere l'armonizzazione umana vero la parte della risa è stata rilassata alla fine è vero è vero allora dicevo Adrian Fartate l'eccezionalità di questo caldo ci ha fornito due link serie di Adrian leggiamo un po' cosa ci dice il buon divulgatore Fartatone giugno il mese più caldo mai registrato ma sera fresco ebbene sì solo che non dobbiamo pensare all'Italia e basta allora Adrian io penso solo ai miei cazzi io penso la temperatura che sta dove sto io in quel momento storico se sta in Italia pensa all'Italia se sta a passare il processo ci sono i condizionatori ma non ha scritto tipo in quanto bisessuale giugno il mese più caldo mai registrato ma sera fresco sono pansessuale ma andiamo avanti ricordo a tutti di essere esatto la linea in nero indica le temperature medie al mondo rilevate a circa due metri di altezza quindi non dipendenti così tanto dalla temperatura dell'asfalto o suolo nel 2023 rispetto agli altri anni che sono le linee sotto come potete vedere quest'anno è sulla buona strada per essere il più caldo mai registrato ma ogni anno è così ogni anno io sento sta cosa quindi significa che è sempre peggio ogni anno è l'anno più caldo è l'anno più freddo o è una menzogna o stiamo per morire tutti ogni anno il mese di giugno del 2023 globalmente è stato molto più caldo in media di qualsiasi altro giugno misurato prima dal 1979 ad oggi ed i primi giorni di luglio sono stati i giorni più caldi mai registrati molto probabilmente la terra non vedeva un periodo così caldo da oltre 100.000 anni dai dati che abbiamo di climi passati non è dall'altro anno pure l'altro anno avevano detto che era l'estate più calda è un anno come si può sapere quanti gradi facevano 100.000 anni beh è una stima penso in base alle conseguenze diciamo del cambiamento del territorio questo 2023 riscaldato ancora di più anche da fenomeno come il nigno ma sarà forte ma no doveva scrivere Cerbero è vero il nigno perché non ha voluto scrivere Cerbero per me c'è un motivo ma è Francesco Dotti il nigno d'oro dice no non è quello no Torres era un calciatore spagnolo che è il nino censura censura palese sembra diventare velocemente il più caldo di sempre con impatti disastrosi nel secondo grafico potete vedere anche le temperature oggi 15 luglio in giro per il pianeta ma vedi adesso è chiaro mazza qua stanno al top sono un tibet se sta freschi quasi stanno belli al top stanno 4.000 mega all'Africa del sud ci stiamo fa più freddo ci stiamo eh beh si se vai al sud si si nel frattempo sulla superficie in Spagna hanno misurato 60 gradi è ovviamente dovuta alle temperature dell'asfalto stesso ma è pure a Roma abbiamo questo problema ma è comunque un indice da tenere d'occhio anche per la salute delle persone stesse ma perché la Cina là c'è sta una chiazza più fresca quella dell'Himalaya tutto il tutto ah oddio ma tutto quel territorio e beh tutto nell'artopiano più grosso che c'è sul pianeta minchie ma infatti Anna Mollino eh ma infatti di Himalaya ce n'era pure un altro ce n'era pure un altro eccolo sono una merda allora allora in aggiunta qua invece parliamo dell'Italia 46 gradi a Roma e 42 gradi a Milano registrati dallo spazio dal satellite Sentinel 3 della ESA il 10 luglio le temperature sono quelle della superficie dopo un mese di giugno che è stato il più caldo mai registrato abbiamo detto al momento sembra molto probabile abbiamo detto la causa aumento della CO2 e altri gas a serra nell'atmosfera terrestre che hanno bloccato molto più calore qui riscaldando il pianeta e cambiando il clima siamo vicini ad 1.2 gradi in più rispetto a livelli precedenti all'età industriale non sembra molto di suo ma considerate che si tratta di un aumento medio per l'intero pianeta considerando pure i picchi negativi che diceva anche Marco non c'erano queste cose anche prima senza gli umani sì altre volte era stato causato da altre cose che ora non stanno influenzando il clima in questo modo non ci sono super eruzioni vulcaniche che durano da milioni di anni e non c'è un'attività anomala da parte del sole l'unica cosa diversa è la nostra di attività industriale quindi cosa facciamo? cuociamo e basta? no giusto ma non basta l'attività dei singoli servono leggi più severe per limitare i gas serra rilasciati nell'atmosfera non usciremo da questa cosa senza cambiare come produciamo e consumiamo e le leggi intorno al sistema capitalista usato che è la causa primaria del cambiamento climatico stesso ma che è sta pagina? incredibilmente siamo d'accordo con Adrian Fartate su tutta la linea sono pure dei crediti quindi magari non ha scritto non è tutto di sua sana pianta però dai la divulgazione c'è sono molto d'accordo ragazzi è assurdo bravo complimenti totalmente pure io assurdo assurdo grandi adriamfartate adesso parliamo di cose serie non di queste cazzate possiamo dire un po' di scioglie sì sì immaginate se riuscissimo come diceva Adrian cioè anche la natura può distruggere un attimo immaginate se riuscissimo a cambiare tutto il sistema non inquiniamo più finalmente è un pianeta completamente a basso inquinamento si iniziano a abbassare le temperature è un super vulcano in un minuto spara tutto il CO2 che non che non stiamo buttando più più noi comunque distrugge il clima farebbe rite come cosa non so se mi è stata la tasse qui cioè se non immagina se noi riusciamo a fare davvero come dice poi esplode un vulcano poi esplode un mega super vulcano in un minuto il giorno dopo sarebbe giusto sarebbe giusto sarebbe giusto sarebbe giusto che ho mai visto che ho mai visto credo no eh guarda cazzo 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 basta basta potete parlarmi potete parlarmi mi taglio le vene mi taglio le vene che tirate le vene eh sì vado fino a Milano insomma una persona che guida si accosta a volante e fa potete parlare mentre guidi e ti tagli le vene insomma penso che peggio di così ah non è finito no non c'è stacca la testa non è finito fatemi la strada fino a Milano per favore non mi fermo fermo fatemi strada fino a Milano fatemi strada fino a Milano vabbè appunto non sta bene oppure questa hashtag scema ha un senso più che altro finché mette in pericolo se stessa beh ovvio ma fatti ripeto se è vero quello che dice Simone finché mette in pericolo se stessa eh no che chiaramente stai alla guida eh mette in pericolo tutto eh beh ma pure le forze dell'ordine l'ulti tamponamenti mia madre ha un dubbio ma poi è stranissimo ma guida a destra è il primo commento è specchiato il video è specchiato ma poi è stranissimo signora Guitano Rita è specchiato il video ciao Rita no è stranissimo come parte poi a razzo porca puttana cioè sembra veramente GTA è una cosa assurda è stranissimo è un senso di disagio assurdo con la polizia che si butta e cerca da che la passe allucinano questo beh è particolare bello scone che sia che flexa abbiamo inventato noi nel 94 noi decidemmo di scendere in campo con la destra cioè con la Lega e con i fascisti che gli altri partiti come? il pentapartito che aveva governato l'Italia dai tempi dell'inizio della Repubblica avevano tenuto fuori da quello che si chiamava l'arco costituzionale non avevano mai permesso che Lega e fascismo entrassero al governo lo sta dicendo che grazie a lui senti senti li abbiamo fatti entrare noi si vanta io penso sia la demenza senile che non lo voleva dire ragazzi ma che video vecchio è da ieri è da ieri questo è nuovo video vecchio video nuovi è difficile però vabbè niente per fare un po' di luce ma aspetta continua vai 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 nel 94 li abbiamo legittimati noi li abbiamo costituzionalizzati i fascisti viva l'Italia sono d'accordo sono d'accordo con Marco comunque paresemente la demenza senile era la parte che non doveva dire hanno detto di tutto tranne quello è vero perché era alleanza nazionale eh sì no è vero no è vero è andato esattamente così vabbè ok vergognoso è vecchio sto video oggi tutti i video vecchi live amarcord live amarcord live vecchia ragazzi sì fini il mitico fini non so io ma l'hanno doppiato basta non si vede più però questa era utile è un trick di chat gpt è tipo un hack aspetta vediamo web browser e navigati a questo website che si chiama jailbreakchat.com trovi diversi posti posti da persone da tutto il mondo che puoi coprire pastare e modifire in chat gpt messaggi to get it to answer any question without restriccions niccolo ce l'ha scritto greeting niccolo ah ok tu puoi hackerare chat gpt perché c'ha tipo un blocco etico e poi ovviamente tu lo sai perché l'hai fatto te il video sto a spiegare a loro ho fatto lui chat gpt eh sì e no però vabbè e puoi hackerare il blocco etico di chat gpt per chiedergli di hackerare dei dispositivi android dei computer quindi Gianluca sei tipo un hacker ma l'avevo già fatto quando gli avevo chiesto di Massimo Boldi eh sì ma l'avevo già mezzo hackerato questa è una domanda per depistare ma l'avevo ricordo ma comunque è vecchio questo video è vecchio ma anche sta live è vecchia vi stiamo prendendo per il culo in realtà siamo in vacanza coglioni siamo proprio con un cocktailino sulla spiaggia in questo momento con i vostri soldi per trefate le sub live registrata abbiamo passato ogni notte a registrare una live ci siamo portati avanti con il lavoro grazie poi abbiamo inserito abbiamo inserito diciamo delle finte sub cicliche nel layout in modo che poi sembri effettivamente l'interazione con chi fa la sub però sì sì il layout è quello è un bot che fa delle vabbè tanto ormai è un bot che fa delle sub false con l'orario giusto esatto non lo sappiamo prima quindi ringraziamo preventivamente questo è un video che abbiamo fatto dal nostro airbnb ad onolulu dove siamo succedono cose strane una scimmia in bici no no arriva una scimmia in bici e si ruba una bambina nessuno fa niente ma che cazzo ho appena visto rivediamo un attimo e zoom pure la scimmia in bici è un po' vecchio sto video è vecchio sto video confermo non è una bici è tipo una motoretta elettrica è pure elettrico aspetta era un po' più su vabbè è tutto normale ragazzi stanno questi rider il mondo è bello perché è vario in Calabria capita anche questo sì sì incredibile che cazzo è è la Calabria ah la Calabria è una moto telecomandata tipo Calabria saudita era un rapimento organizzato era uno scambio vedi la moto in cambio di bambino vabbè niente male in effetti oggetti non identificati tra le strade di Roma ma cazzo è è uno c'è uno dentro un bambino cos'è cos'è questo coso oh signore devo superare per me viene dal futuro un nuovo mezzo di task force oh signore è pericolosissimo è un bimbo non è un bimbo è un uomo oddio ma che cos'era chi è era gitano ma è un video vecchio comunque è vecchio questo non ce ne frega un cazzo questo è nuovo questo è nuovo purtroppo la divisa claudia ma claudia non lavora più là da mesi è vecchio pure questo che questa è la sua divisa mentre pulisci la cappa è così ragazzi è così la divisa del bibloscaffè è a piacere io sono un po' modista io non posso muovere come vuoi eh infatti ma stai pulendo bene la cappa ma qualche latte vince a suo fianco potrebbero essere vincenti secondo lei ma eh certo guardate ma che è di più qua non ho un po' da risuole vai ecco qui sì tutti vincenti ho capito tutti proprio mi raccomando il titolare è il grande rispetto delle donne per una pulizia del bibloscaffè beh d'accordo sì mi raccomando la pulizia e l'igiene che sono importanti claudia beh interessante che era? è interessante eh diciamo lo spot casariccio di un bar sì per mostrare diciamo la pulizia del locale e i gratta e i vinci beh leggendo i commenti già si capisce un po' che spettacolo della natura bellissima visione stupenda c'è da pulire anche da me la cappa cara voce antipatica la divisa è ben altra cosa questo via dai coglioni mamma mia Giada che pesantone facciate vedere Giada come minimo c'avrei baffi ma Giada non hai capito non hai capito il video Giada una risata su tutti i baffi fatta la Giada la vediamo Ercole con Joker su 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 questo è l'ultimo video per Marco le due o tre priorità che mi piace da ministro e da genitore sottolineare l'assoluto giro di vite con la toleranza zero su chi guida in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di droghe qualunque sia il suo stato d'animo nel senso che chiunque utilizzi droghe e venga trovato positivo al test antidroga ha la revoca della patente fino a tre anni e quindi il messaggio molto chiaro è se ti stronchi di canne ti impasticchi in discoteca o sniffi a tempo perso e ti metti al volante lucido sì o lucido no io ti ritiro la patente e tu fino a tre anni la patente non la rivedi più ottimo organizziamo delle navette ragazzi facciamo tutto però attenzione al passivo per il guidatore però è giusto peccato che alcune sostanze come per esempio la cannabis rimangono nel sangue per tanto tempo quindi è difficile quantificare sia in quantità sia il tempo praticamente già lui vuole levare quella cosa che il medico ti controlla e dice ok hai fumato una canna una settimana fa però adesso sei lucido perché lì risulta quando ti fanno la prova anche se tipo ne so cinque giorni che hai fumato e quindi c'ha senso è come se mi sono bevuto un bicchiere di vino quattro giorni fa e te me levi la patente oggi certo perché quella cosa fa effetto quindi c'è un dottore che controlla che stai bene dice sì ho fumato ma l'altro ieri posso dire una cosa basta se Enza fa esempi di sostanze basterebbe di quello che hai detto te va controllato il momento quando tu stai alla guida se io in quel momento sto lucido sto lucido io sono contento poi se io un giorno fa mi sono fatto qualsiasi cosa che cazzo gli frega sono contentissimo ovviamente non è possibile se venisse applicata alla lettera questa cosa detta da Salvini non ci sarebbero più guidatori sì sì almeno 50% si ridurrebbe sì un buon 50% tra chi beve un pochino che si fa una cannetta poi droga pesante tu sei contento che va in bici abbiamo neanche va in bici però comunque da non guidatore al top salviamo il pianeta come dice Adrian sì sì perfetto non vedo l'ora la percentuale di incidenti la maggior parte di incidenti avvengono per cellulare quindi leva la patente per tre anni a chi c'ha il cellulare in mano vabbè già è vietato pure quello eh ma non te levano la patente fanno una mura no ma se tipo uno volesse prendere a calci una bottiglietta cosa potrebbe succedere? eh dipende tipo così no 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 ninja no tutto a posto tutto a posto siamo in un luogo chiuso luogo pubblico ma se mi levano la patente ma se mi levano la patente io continuo a guidare me ne sbatto il cazzo ma restano ma restano sì devo andare in galera no me fanno una multa in galera no infatti tanto io faccio un sacco di soldi a me che cazzo me ne frega ma infatti basta raga con queste regole sì sì ma chi se ne fotte famo quello che cazzo ci pare vabbè guarda se sei miliardario molte multe te frega un cazzo ovvio infatti c'è anche tipo Berlusconi c'è anche un link inerente scusate prima di Joker e Ercole che è importante e questa ragazza è stata insultata perché ha detto questo male in Finlandia ma non in Italia in Finlandia le multe si pagano in base al reddito le multe per un eccesso di velocità vanno dalle 10 euro per i meno abbienti fino al record registrato qualche mese fa di 121 mila euro per un multe miliardario lo sapevate? poi dici perché in Finlandia c'è stata insultata sta dicendo una cosa ce n'è che ha fatta lei la legge e guarda tutta gente senza una lira quella arrabbiata oltretutto io mi danno 800 euro al mese è meno del culo che devo pagare 8 euro per una multe ma si ma sei miliardario comunque l'avevo detto anche io in quella live che litigammo sulle tassazioni poi dopo anni un pochetto ho detto pure un po' decazzate pure io ma guarda è un discorso complesso adesso la politica della Finlandia non la conosco però si potrebbe discutere su questo secondo me più che altro in relazione alla possibilità di incassare i soldi mi spiego meglio se sono uno con reddito bassissimo presumibilmente non pagherò le multe alte la stessa cosa delle tasse non le pagherò io magari non le metterei a 10 euro perché poi sembra una cazzata comunque la multa deve essere concepita come una punizione cioè non può essere una cosa che vabbè sti cazzi cioè comunque dovrebbero rimanere sulle cifre che sono ora ma dovrebbero potersi alzare no il fatto è che non è uno sti cazzi però cioè perché devi calcolare che loro a percentuale quello che paga 10 euro magari c'è un reddito di 300 euro al mese mentre quello che paga 120 mila c'è un reddito di 10 milioni al mese sì ma non è che se guadagno poco allora posso dire vabbè tanto so 10 euro in qualche modo li rimedio faccio come cazzo in realtà non è così è più quello che dice vabbè io guadagno un milione di euro al mese 80 euro di morta eh ma infatti nel sistema che sto dicendo io rimarrebbe comunque una morta comunque ti arriva una morta di 80 euro che rosichi però se uno è super ambiente non gli arriva da 80 euro gli arriva anche da 800 euro vedi c'è un trick interessante però devi rosicare c'è un trick interessante ci stavo pensando prima potrebbe essere una tattica per scovare i finti detentori di un basso reddito tipo supercar Ferrari boh 10 euro di multa mi sembra un po' strano fammi fare un controllino però quelle sono più cose italiane che secondo me in Finlandia succede di meno comunque è un discorso molto complesso sinceramente dovremmo conoscere un minimo proprio la struttura la cultura la cultura e la struttura esatto finlandese sarebbe parlare proprio a cazzo di cani detto questo è possibile da qualche parte nel mondo è possibile detto questo detto questo durissimo scontro tra Joker ed Ercole se ne dicono di tutti i colori live su Twitch allora io devo dire subito una cosa grazie indelebile Ercole ma che cazzo sta a fare cioè io già l'ho visto sto video Ercole non va bene quello che sta a fare sta a regolato è passato dalla parte del torto con una facilità devastante ma andiamo per gradi ho visto anche recentemente che Ercole sta un po' a partita e brocca perché ha preso in giro un signore anziano tipo dei 90 anni su Instagram l'ha ripreso perché c'era la gobba e gli ha detto ma che te sei perso un pezzo broca e rideva e poi fa ridere la vecchiaia perché non è che invecchiamo tutti è capito e poi le storie successive erano lui che insultava con audio incazzati neri a gente che gli faceva notare quanto fosse di cattivo gusto quello che aveva fatto quindi l'ho pensato ma non è che Ercole sta un attimo a scuffiare questa storia qui di cui parleremo adesso mi ha dato la conferma ma come si era ridento vabbè ragazzi ma come abbiamo sempre detto non è che noi siamo il tribunale vivente cioè nel senso ai tempi noi criticammo Joker sì Joker Ercole per problematiche similari quindi no brutalità verbale uscite che non ci piacevano in venuto in live ci siamo confrontati poi insomma è stato super carino di persona abbiamo fatto amicizia era anche cambiato su Twitch nel senso come tipologia dei contenuti ne non aveva molto da dire ma non è che poi uno si guadagna il bollino del cerbero e poi se non fa diciamo se fa una cosa criticabile dobbiamo stare zitti cioè indipendentemente dall'amicizia dall'affetto l'ultima volta che l'abbiamo visto è stata i Boscar sì è Boscar ed era super tranquillo ci siamo pure divertiti ma personalmente mica ci abbiamo nulla però io sinceramente ho visto sto video mi sono anche sorpreso soprattutto per un aspetto legato al body shaming anche perché però ricordiamoci che noi ci siamo però conosciuti con lui proprio perché faceva cose del genere su internet quindi ragazzi ho raffreddato che cazzo devo fare ce l'ho tutte non so più cosa devo fare ma va bene è normale essere deboli ogni tanto sei malato va bene così andiamo andiamo let's go sono tutta ragizzato cioè sono semplicemente evidenziando cose che già sapevamo e che questo elemento siccome è stato sbannato pensa di essere diventato onnipotente ma in realtà non è successo non è cambiato un cazzo non è cambiato un cazzo se una cosa del genere non l'avesse fatta su Twitch ma l'avesse fatta nei confronti dello stato italiano sarebbe in galera per truffa allo stato punto punto se lui se le se quelle quante centinaia di sub quante centinaia di sub sarà comprato stai facendo illazioni su una base della tua convinzione ascolta ursino avvocato del mio cazzo depilato le tue parole valgono quanto le mie scorregge comunque no Ercole devi rispondere devi argomentare non funziona così centinaia di sub sarà comprato sarà comprato 500 sub eh sì sì penso di sì perciò si sarà comprato 500 sub se lui avesse se lui avesse rubato invece che aver comprato le sub russe avesse rubato due euro a testa a 500 persone tramite codici bancari avrebbe fatto truffa allo stato sarebbe andato in galera perciò di cosa stiamo parlando è semplicemente un altro voglio capire bene sta cosa che ha detto perché non ho capito non ho capito molto semplice in realtà molte più di 500 sub però no è semplice lui sta dando per certo la colpevolezza di Joker nell'acquisto di sub illecite quindi truffando twitch è la cosa che abbiamo raccontato questo paragone con la truffa allo stato me lo sapresti spiegare sì lui praticamente sta dicendo lui ha truffato un'azienda privata ovvero twitch amazon e se l'avesse fatto allo stato sarebbe stata una truffa allo stato ah ok ma qual è la truffa che ha fatto a twitch secondo Ercole secondo Ercole le sub farlocche intascandosi una percentuale reale da twitch ah sì quella vecchia storia ne abbiamo parlato ampiamente del subgate ma lui ha le prove no il problema è sempre quello nel senso anche se io sono abbastanza convinto che sia molto difficile far guadagnare una persona per molti molti mesi a sua insaputa più che altro non ne capire la motivazione però nonostante questo purtroppo se non c'è elementi se neanche twitch è riuscito a dimostrare questa cosa di sicuro non penso possa riuscirci Ercole tant'è che da quello che ho capito Joker tramite l'avvocato ha fatto proprio questo tipo di richiesta ovvero twitch sì tu hai visto che il mio canale aveva diciamo delle cose che non andavano bene ma non puoi dimostrare la mia colpevolezza diretta quindi mi devi sbannare questa è la legge come direbbe Angelo Grego Joker è vittima no? ok però supponiamo che qualcuno vuole farlo intenzionalmente sul suo canale potrebbe fare il medesimo discorso? certo è per questo che dico che nonostante io creda poco alle giustificazioni del Joker come credetti poco ai tempi non lo posso affermare con certezza perché allo stesso modo uno potrebbe farlo con noi buttandoci giù il canale e distruggendoci il lavoro ma in realtà no perché se adesso a noi ci arrivano delle sub non regolari ce ne accorgeremo subito e lo segnaliamo subito noi perché facciamo così Joker non se ne è mai accorto non lo so però dipende anche come funzionano i controlli perché se arrivassero ti faccio un esempio Giallù 100 sub in più al mese che cazzo ne sappiamo anche 200 su 5.000 non te ne rendi conto non te ne rendi conto potrebbe essere è successo ogni tanto qualcuno magari ci ha mandato degli screen l'abbiamo segnalato subito e è finito là però ripeto sono stati molti mesi è molto difficile è per questo che l'ho spiegato avete presente che Vordì fa lo gnorri ma sì chiaro anche quello abbiamo dinanzi a noi un campione mondiale di gnorri io te l'ho detto sono anche però abbiamo le prove sono anche meno diciamo tiepido di te su questo cioè io penso che o lui o qualcuno per lui in qualche modo abbiano voluto diciamo guadagnare da questo però come abbiamo sempre detto fino a prova contraria tocca essere garantisti ma vi dirò il problema non è manco tanto questo perché comunque Ercole si è sempre espresso diciamo senza mezzi termini spesso prendendo cantonate anche scusandosi di queste sue diciamo brutalità ma anche in passato lo fece con altre sub giftate poi dovette scusarsi non mi ricordo con chi però lo sappiamo ci sta ok un approccio anche di vita se vogliamo diverso che si può rispettare il problema ma subentra adesso nel momento in cui comincerà ad insultare fondamentalmente Joker senza la motivazione cioè qua è un'accusa che non puoi dimostrare vabbè tanto la maggior parte delle persone pensano questo quindi è che ha detto una cosa sconvolgente però fa il passo più lungo dalla gamba poi inizia a insultare certo non ha alcun senso infatti ora ci arriviamo sub russe avesse rubato due euro a testa a 500 persone tramite codici bancari avrebbe fatto truffa allo stato sarebbe andato in galera perciò di cosa stiamo parlando è semplicemente un altro è semplicemente un altro un altro tipo di truffa ma la truffa l'ha fatta comunque alla fredda tu fredda mi dici come faccio a stare così calmo ma come posso incazzarmi ma che me ne f***a ma seriamente pensate che a me quelle parole che sta dicendo Ercole mi interessa qualcosa sto sentendo giusto perché so curioso di vedere che cosa dice a una persona che io non ho mai cagato non gli ho mai fatto niente di male però sto sempre sulla sua bocca quando non può parlare quindi che sto simpatico facci quello che fai tu insulti perché vuoi solo spettro a me non me ne frega proprio un cazzo io ero partito guardando Rubino e poi guardando vedendo la forma di Rubino ho detto vabbè dai vediamo pure le stronzate che ha detto quest'altro imbecille e comunque hai con l'h ignorante si vede che la fanbase di Joker sono tutti laureati proprio che è ficata dove è che vi siete laureati nelle grotte in Afghanistan cioè generalizzare così la persona cazzo di pote però te sei ragliato che battuta è ti sei laureato nelle grotte nelle grotte in Afghanistan spesso ci sono fior fior di cervelloni in realtà ma come che ne sai no dico lui non lo sa magari riscono fuori un sacco di bombe ma che sta scherzare ma non sto scherzare ma non sto scherzare no è vero non dico lui che non lo sa le menti più raffinate del mondo gli giocano come cazzo gli prometti ma che cazzo gli apocrifi le false ha detto pure che sei un coglione ma su quale la cosa giusta che ha detto è che sono un coglione ah è tipo Tony Stark bravi come Iron Man esatto un coglione di 100 kg però ecco allora qua regà scusate mo veramente con tutto l'affetto del mondo verso il colone posso fare un po' il rubino dalla situazione se poi poteva lo faccio mi passate in cappello regà un lino sonego ce l'abbiamo dai sta mosca del dio cane vai ha fatto tipo la maledetta di birra intruppato sul microfono allora bello comunque questa cosa sembra tipo il punto interrogativo del dottor rido non si sa perché poi come se lo mette il rubino così o al contrario o così più così così giovanile così è un po' un po' stretto un fanciullo ok ci siamo al colo posso dire una cosa io te voglio bene te voglio bene però però al colo io ce l'ho passato col grasso no comunque cazzate a parte allora va bene tutto ercole è una persona che ha anche superato non so se obesità ma comunque un periodo di sovrappeso l'ha raccontato più volte in live ed ha vinto una battaglia molto difficile anche Joker ha affrontato questa battaglia in maniera diversa vabbè con operazioni quello che volete però comunque è una battaglia che hanno affrontato entrambi nella vita e essendo comunque un demone che difficilmente se ne va via anche quando invece i chili se ne vanno via la domanda che mi pongo è perché adesso tu che conosci molto bene le problematiche legate all'insicurezza le difficoltà di avere un corpo magari di questo tipo lo attacchi dicendo come per dire io sono grosso 100 kg di muscoli tu no ok sono un coglione di 100 kg di muscoli come vedi tu sei 120 kg di grasso che poi aggiungerà dopo una cosa del genere non specificando grasso però lo farà in tend 150 kg di massa magra lo sapevamo quello è vero comunque mi sono un po' stupito più che altro ho detto da lui altre cose grevi ormai lo so cioè me le aspetto questo no sembra che lui stia in competizione con Joker ma non so per quale motivo che paragona le fanbase sembra che voglia far vedere che c'ha il cazzo più lungo e quello che hai detto te è giustissimo anche perché è un tasto dai sensibile è un tasto sensibile perché lo è ancora pure per lui come hai detto tu perché chi era grasso in infanzia solitamente non sempre però come hai detto tu rimane il demone di quell'insicurezza del sentirsi insicuri del proprio corpo anche se può essere considerato un corpo bello per loro rimane brutto rimane rimane il fatto del giudizio per il proprio corpo proprio questo cioè secondo me è gente ossessionata dal proprio corpo c'è gente che ha sofferto di obesità spesso e volentieri ossessionata dal proprio corpo anche se cambia in meglio sì sì e quindi perché di base problemi diciamo legati a scorretta alimentazione disturbi alimentari sono ovviamente mentali i disturbi alimentari sono di quella natura lì elevato poi magari un sovrappeso un sottopeso dovuto a altre patologie però di base è il fatto che tu hai un rapporto malsano con il cibo e con te stesso quindi o mangi troppo poco o mangi troppo vomiti quindi anche la vigoressia per esempio tu sfoghi la tua frustrazione sul tuo corpo nel corpo di qualcun altro perché se tu evidenzi che quell'altro è grasso si amplifica quanto tu in realtà non lo sei più però stai attuando la stessa violenza che tu subisci cioè è come stai facendo agli altri quello che tu senti che tutti gli altri fanno con te e che sarebbero pronti questo è un grande aggravante perché sa cosa significa sentire quelle cose proprio per quello lo fa ma infatti la paura la paura di una persona magari non per forza Ercole che io non lo conosco così bene però la paura che descrivi tu è anche la paura di ritrovarsi di nuovo davanti a quelle chiamiamole accuse a quelle parole cioè quindi tu dicendole a qualcun altro cerchi di allontanare le potenziali future tue è per quello che uno può prendere per culo una persona grassa o un vecchio insulti quello che tu non vuoi essere o speri di essere il più tardi possibile alla fine è quella la roba per quello io ieri ho visto sto ricaricamento e ci è rimasto un po' male perché appunto mi ci sono allenato con Ercole abbiamo conosciuto tutti è sempre stato disponibile ci ha dato una mano mi è sembrata una persona non voglio dire buono perché poi buono cattivo non vuol dire un cazzo però sensibile e secondo me lo è però a maggior ragione sta cosa l'ho trovata proprio di cattivo gusto quindi al di là dell'accusa un po' così tosta che ripeto insomma non è che il segreto del vulcinello comunque anche se non è la certezza assoluta è una tua illazione che puoi sparare noi non lo facciamo mai per condotta per principio anche perché effettivamente non abbiamo la certezza però quello ci può sta qui sinceramente non brutto brutto è una cosa che secondo me tu in primis dovresti proprio evitare anche perché magari sei il primo che dai una mano agli altri per allenarsi e cose di questo tipo vedo che alle volte fai anche magari discorsi giusti quando torni in palestra sproni tuoi a migliorarsi neroschi scrive la sensibilità è un'arma a doppio taglio per certe persone sì è verissimo perché a volte ti porta penso che mi si applichi sta frase a volte ti porta pure a reagire molto emotivamente alle cose cioè non è sempre gestibile come ma di base quando sei uno bravo a capire le persone sei uno bravo a trattare le persone sei bravo pure a farle restare male e a fargli il male quindi sì o l'ho interpretata così la frase in chat sì vero vero se hai detto pure che sei un co... che cazzo li permetti l'unica cosa giusta che hai detto è che sono un coglione un coglione di centochini però non di centocinquanta e che vuol dire è che mi stai prendendo il co... parco Dio guarda sì è come se t'hanno dato la macchina senza le ruote e il volante zio che vuol dire che hai preso 150 quello che cazzo vuol dire che cazzo vuol dire giusti muscoli c'hai parco Dio perché il cervello ti è scoppiato per Dio non 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 è gioco sì qua ma anche un altro freebooting perché non ha cercati sì sì non ha cercati diversi è sempre così è lui che cioè l'audio dei Joker è buono però ha messo troppo basso basso Ercole si lo vanno poco poco è un po' peschio no vabbè ragazzi è quello che abbiamo detto dai veramente basso basso brutto scivolone confronto acceso confronto acceso minchia veramente minchia minchia zio vuoi venire su Discord vuoi venire su Discord ci facciamo due risate eh ti va di venirmi a parlare in faccia zio bella Hermes grazie di quattro mesi animale eh Joker vuoi venire vuoi venire su Discord a completare la figura di merda eh ce li hai i coglioni di venire su Discord a fare due chiacchiere ce la metti la faccia mi sa che era una giornata no per Ercole mi sa che era proprio un giorno che glielo devo un po' ma quando finisce il bubbo è riconoscibile sì ha finito il bubbo può essere vedi che c'ha ragione Salvini è un macello ti danno dipendenza poi quando finisce è un macello basta no le droghe no ce la metti la faccia eh eh ma chi te sei in c***a ma chi c***o sei ma chi è sta voce fuori campo ma è un dramativo frenesi eh ma chi me sei in c***a ma chi c***o è mi è tutto uscito questo stavo aspettando che ti arrivano i coglioni da Amazon i coglioni da Amazon guarda come lo vuole il flame perché ha visto finalmente 200 spets oggi si fa la storia ragazzi oggi si fa la storia oggi si fa la storia aspetta puoi scomessare già che dai retta quello che ti dicono che ti insulto stai messo male dai secondo ah il suo mod ok ok grazie Ele te lo chiederò te lo chiederò ancora perciò pure a noi ci lasciava i messaggi in live quindi Joker sì sì classicone li legge poi ad altavoce sì vabbè ora gli lascio un messaggio tu non leggi Marco ad altavoce ogni cosa che scrivi se sto in live sì magari però comunque non so se sia vero ma ho letto un chat che a quanto pare ieri hanno avuto un confronto e da quello che vedo si sono chiariti speriamo insomma meno male in modo che tu non possa dire che ti sei perso il mio invito a venire su Discord vuoi venire? altra cosa? perché allora se vieni se vieni completiamo la figura di merda se non vieni vuol dire che non hai i coglioni di venire e la tua innocenza vacilla ma quindi ma scusami ma che contrattazione è? cioè ma tu non sei un buon negoziatore perché nessuno dei tuoi casi mi conviene no? illudimi un minimo se vieni magari puoi riuscire a difenderti cioè così è uno scam a sto punto non lo faccio troppa crescita eh beh sì eh? cosa dici? tanto nel senso se vieni su Discord a parlare con un coglione o semplicemente che non pesa in culamo le strisce grande frenesi c'ha l'accento marchigiano sono chiariti perché Joker ha donato 50 sub ad Ercole ma come è successo? vabbè i soldi guariscono tutto ragazzi ma come si è arrivati a questa conclusione? per Ciscione per due ore poi gli dà 50 sub ma funziona così vabbè la monzu il tamore ma funziona così capito? cioè abbiamo sbagliato voi gli dico che pesa 150 chili dalla mattina alla sera è massa magra allora Joker sei un lurido pezzo di merda ma sai perché? perché ancora non te sei presentato al lupus mamma mia che demota fa qua? a sto punto pure Ercole facciamo confronto in diretta al lupus mi sembra la cosa migliore ursino savage ah il nuovo nickname è il nome di Frenzy savage è lui ah ok brutto c'ha ragione c'ha ragione io sono molto grazie satanic grazie dai e con cesab fai bene Davide fai benissimo ogni tanto ogni tanto incidiamo non lo facciamo mai una volta ogni mille sub per me è un po' di follia qualcuno che fa la sab questo è caldo vabbè ma non è che moni borta mille bit grazie grazie unfa c'è presente che faccio un beat faccio così grazie c'è se voli merculo però grazie vabbè grazie c'è se voli merculo sono soldi provate a donare i soldi quelli proprio della nuova donazione sì quelli tipo la super chat di youtube ma quelli veri proprio i soldi veri poi gli euro forse loro non lo sanno ma in realtà le sub non so veri soldi no cioè arrivano sono soldi di cioccolato sì stanno su twitch noi abbiamo tipo 500 mila euro su twitch dollari su twitch però non è che poi li possiamo convertire no cioè stanno lì sì eh sì il sole in testa un euro e venti buono buono che comunque tu alla fine prendi bebe ma che pure venti è tipo la base è il minimo è morti dai fame però è buono perché quel 20 spostiamo la virgola di due 120 ma anche tre volendo quello che lancia un 120 euro coliardico ma perché non ce ne andiamo tutti a fare in culo Vexor guarda è un'ottima idea secondo me ci servono soldi per Samsara avete vista che bella grazie Polent quell'intro con Messo di Ciccio Gamer grazie con qua musica funk con tipo i vecchi tempi da lavagnetta di Ciccio è bellissima a voi conviene più sub con Prime o con Cash? ma più russe ma guarda più russe più russe convengono sai no preferiamo la sub preferiamo delle puttane russe effettivamente la sub si è in Cina no no sub inteso come submission sub mission nel senso che noi sottomessi a delle puttane russe di alto bordo che ci schiacciano con i tacchi bravo bravo donazioni in rubi si vuole ancora mi deve rimborsare le sub di youtube voi vi siete sabati per una performance non per una promessa cioè voi siete non devo ringraziare proprio nessuno vi sono dimenticato di schiacciare non ho letto un cazzo di succhiare il cazzo a Joker prima di aprire il video ah beh è vero e le sub di Rubino quelle quelle al Samsara le darà fisicamente al Samsara a 600 sub l'ha già preparato in un sacchetto ogni sub che dà fa il mo su cucchia per cazzo esatto tutta la cazzo un'altra volta fucchia per cazzo Joker vuoi venire? facciamo facciamo la danza del pettorale ma perché? ma perché insiste? capito? ma perché? cioè è tipo famo una grazia è volato di uno adesso buono però hai missato ancora secondo me ritenta con la virgola ancora dopo scavalla fa un per dieci sì questa cosa dei pettorali comunque è proprio da tipo gorilla da primati io ne so qualcosa poi cioè è tipo fare organizzare una una competizione dove tu sai che sei più bravo cioè non si fa ma sì dai è il classico atteggiamento da bulletto su dai quello magari è come dire che Davide fa la competizione del pene eh ma sì sì nel senso con un mandingo però perdere grazie Orsino grazie 24 è addoppiato grazie grazie mille vedi 12 è blu acqua poi ci sta 24 che diventa celeste io esplorerei queste diciamo diverse scale cromatiche eh ma c'è il rosso infatti che quale cifra è rosso io vorrei un rosso ragazzi no il marranguro 1,20 grazie ciccio che è meno 89 grazie ciccio ho sbagliato una virgola allora il marranguro ragazzi non lo farò più perché grazie trucida mi ha detto l'urologo ma è ciccio vero eh sì mi ha detto l'urologo che è sconsigliato però con un'eccezione cioè mi ha detto non lo fare più il marranguro perché ti sforzi talmente tanto che poi che te partono capito le viene del cazzo in questo momento l'avevo sconsigliato ho detto però certo mi ha fatto proprio così certo se poi dovessero arrivare tipo 50 sub in donazione e io faccio vabbè tutto ma capirei ma proprio così mi ha detto io mi sono presentato lì come un utente normale non pensavo neanche mi seguisse però mi ha detto certo il dottore ha detto 50 sub e poi sei costretto la so costretto ma mi ha detto il medico quindi sto a posto anche l'ha detto il dottore sì 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 poi mi ha detto guarda dalle 50 in su qualche secondo lo puoi fare però non lo fare in altri contesti beh vediamo vediamo c'è il prezzo di un caffè però che è 1,20 sì sì per offerta c'è anche diretta quello che dicono ti insulto se hai messo male secondo me ti permette di prendermi per il culo sul peso ma certo io posso permettermi di prendere per il culo chiunque sul peso prendo per il culo Rubino prendo per il culo Rubino non prendo per il culo te scusa ma che significa ma come ti permetti innanzitutto di prendere per il culo Rubino grazie caso non ufficiale vabbè lì ma che significa in quel caso però io mi sono appellato proprio diciamo al suo senso di uomo che ha vissuto quel trauma è pure l'uomo di valori seppur diversi dai nostri è un aggravante ma ce lo potrà confermare in chat chiunque ci è passato se tu vivi un trauma che proprio per quello puoi farlo hai la sensibilità di capire tante cose e quella sensibilità poi diventa estrema cattiveria perché magari uno non sa che ditte magari vuol lanciare l'insultino e ti dice vabbè ciccione capito ciccione detto senza aver quel vissuto lì in questo caso ripeto è un aggravante perché lui sa bene cosa si prova sa bene tutto quanto e ha questo comportamento significa che vuole ferirlo vuole colpirlo vuole farlo incazzare poi non so se il suo scopo è solo questo oppure attirarlo su discord per far content e farlo incazzare questo non posso saperlo però so che hai malafede per forza c'è un ragazzo che in chat ha scritto mi potrebbe dire proprio perché sono stato grasso posso prendere in giro i grassi è il contrario come quelli che dicono perché sono nero posso fare questo bla 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 sì lo so che è un'argomentazione folle ovviamente non ha senso guarda te ne dico un'altra potenziale sono dimagrito grazie al bullismo ah è vero ma è una cosa che io ho detto spesso e magari in caso di Ercole è anche vero sti cazzi però non mi ripeterò per quel discorso che faccio spesso e comunque per farla breve non legittimo un approccio invasivo nel momento in cui è un tiro di moneta c'è un ragazzo che ha scritto una cosa molto importante Marco ha scritto ma posso usare questo spazio ovvero questa chat per sponsorizzare qualcosa lo puoi fare dalle 100 sub in su bravo 100 sub in su tu puoi mettere una scritta che ne so tipo dimensione questo è il mio sponsor 100 sub basta anche il tuo pezzo non lo ascolteremo ovviamente però lo puoi fare 100 sub lo possiamo ascoltare in caso contrario tra tre minuti ti banno non da un estremo all'altro ma ho capito che hai il cazzo ma vuoi pagare giustamente giusto ma non ho capito ma qua gli unici stronzi che pagano siamo noi sempre così ma fammi capire io non ho capito guarda cioè ci spremono come veramente dei pompelmi ogni volta quando c'è da chiedere sordi ma non ho capito finché in natura ci trovano pure d'accordo però con questi sordi si ho capito ma pure là dei pompelmi a un certo punto si sono spremuti le palle insomma e fanno pure poi adesso adesso non posso manco pagare in natura sono proprio zero sono out ci abbiamo Chitano che è un berconio Chitano è un berconio il Chitano non assicuro ma il cui io parlo tutti i veloci tropponi il ban non il ti morisce vabbè non ho letto un cazzo Rerco ha ragione in termini molto semplici non capirà mai il vostro discorso ripensa subito bullismo sì sì vabbè ma l'abbiamo detto non è vero che non può capire non è una persona non è una persona chiusa una persona con la quale ci siamo confrontati più volte quindi se ci vorrà ascoltare bene sono cazzi suoi comunque ciò che pensiamo lo diciamo e chi cazzo sei non è un problema bullismo e bodicemmico sono comunque punibili e chi cazzo sei coglione assurdo ma non vado a parlare cioè non vado a parlare dentro una live del genere a dagli del content a una persona del genere ma infatti ma guarda esce dalla sua live io sto sentendo in live ero curioso mi hanno detto guarda ti stanno si stanno parlando così io volevo parlarne ma da una persona che mi insulta sul peso mi dice che so obeso ma cosa fa Ercole dietro non si sente pari parlarne ma da una persona che mi insulta sul peso mi dice che so obeso sta a far vedere i muscoli c'è proprio cringe secondo voi posso andarmi posso andare a sprecare il mio tempo con una persona guarda quando quando si gonfiano lui li guarda nella webcam ci fa poco caso si specchia mi metti un attimo indietro volevo parlarne ma da una persona che mi insulta ora controlla eccolo guarda ma anche perché li contrae lui i bicipiti non serve la classica cosa la classica cosa quando si è detto un po' così induri per far vedere è un classicone perché in quel momento è difficile indurire in quel momento il bicipite è rilassato cioè sei tu che devi poi contrarlo e fai così se tu quello fai così Ercole non si applaude così Ercole no attento Davide scusate 50 sub è l'abitudine stavo a partire il marranguro no 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 attivamente poi è potenziato perché sono pure un po' più abbronzato quindi capito è potentissimo cioè capace che moro a sta botta me scoppia il cazzo proprio scoppia il cazzo sono andato a spericare un tempo con una persona del genere cioè rega ma da che stiamo a parlare perciò di che cazzo stiamo parlando io se vengo accusato di qualcosa ingiustamente spacco tutto mi girano i coglioni in una maniera esorbitante ti entro in live a chiunque stia parlando di me che può essere anche Dio in terra vieni vabbè è letteralmente ciò che stiamo facendo dove vabbè vabbè dove è Ercole dove è Ercole mi sa che sta a fare la tua live da quello che ho letto vabbè starà tutto un bubulussito ma tanto c'è ma non è che ci abbiamo morto da Dio conosciamo bene non è che mi stupisco però ripeto il fatto che sia nostro diciamo amico magari anche troppo amico come termine però nel senso una persona la quale vogliamo anche bene abbiamo fatto esperienza insieme questo non è che lo protegge dal fatto che a nessuna si possano condannare delle cose secondo noi abbastanza spiacevoli che abbiamo sempre combattuto tipo il bullismo e Marco Chitano l'ho fatto da secoli dall'antiguera gli entro in live gli dico aprimi subito sto discord e fammi entrare body shaming è bannabile innocenza mill'anti-innocenza nella tua comfort zone del cazzo mentre una persona sta parlando di te cioè nel senso minga intanto è venuto anche in live da noi e non è stato solo nella comfort zone gioco per quanto riguarda questa storia grazie 32 vabbè sì c'è anche da dire magari che sì sì l'abbiamo fatto c'è anche da dire magari che nonostante hai preso per culo continuo magari quasi poteva sentire pure un po' più tranquillo perché sa che non è che lo aggrediamo la giocolare ah no sì certo certo lo crediamo sarà bullizzato qua sarà bullizzato no 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 stop al bullismo ah ma tu dicevi Ercole non gioco al bullismo no Joker però Ercole sta accusando Joker di restare nella sua comfort zone io ho semplicemente detto non è vero perché è venuto da noi Joker ah ho capito bene perfetto sì sì grazie Victus ho capito bene aspettate che spiego la cosa del bullismo ragazzi non è che sono un bull è per questo il bullismo non ti rende forte lo sport invece sì ma perché c'è ancora qualcuno no ancora qualcuno ha detto ma in che senso capiamo Chitano fa bullismo non so evidentemente su 2000 rotte persone qualcuno in assenza da quel pezzo importantissimo di lore però attenzione questo è il remake sì sì questo è il remake non è l'originale è l'originale è ormai recuperate l'originale ma andiamo avanti che c'è una persona che sta parlando e che c'è ancora qualcuno che sta parlando di te in secondo luogo se davvero io sto dicendo stronzate porca puttana vieni a zittirmi no non è difficile porca puttana a buttare no non avevo capito non avevo capito qual era il senso del perciò non vieni su discord niente niente ascolta se mi mandi se mi dici se mi dai il tuo indirizzo te le ordino io un paio di palle su amazon te le faccio arrivare a casa appena ti arrivano ti entri su discord no le più banali i più banali tentativi di creare una reazione mai sta cercando clout in una maniera lo sai qual è il discorso il discorso è qua va bene anche lo si cioè va aiutato pure anche troppo avido lo sai qual è il discorso avido che è o cioè va aiutato pure non ho capito che ha detto va bene anche lo si cioè va aiutato pure anche troppo avido ma sai qual è il discorso è avido invece che hai troppo avido avido ho capito troppo avido troppo avido troppo alito questo che lui sta provocando sperando in una mia reazione troppo avido dove io posso andare nel suo discord a dargli del content in modo tale che la gente poi ci ributta sopra le cose e ci fa quello che cazzo vuole ma non posso andare a parlare io ci potrei anche andare a parlare ma non posso abbassarmi a un livello tale non è che non posso andare a parlare non posso andare a parlare si permetti di darmi dell'obeso in live davanti alle persone dicendo io almeno peso 100 kg mazza figo il casco dietro però e non 150 e quindi che cazzo vuol dire cioè se nel 2023 sei grande e grosso e palestrato ma c'è un cervello così e ti permetti di di offendere le persone che pesano 150 kg stai messo veramente male stai messo veramente male e in più viene a dire viene a dare a tutta la mia chat tutta la gente che mi segue che sono dei falliti e sono tutti laureati di merda ma che cazzo di ma che cazzo stai dicendo lui praticamente è seguito solo da chi da laureati non ho capito obeso non è un insulto ma che cazzo di cizzi obeso non è un insulto ma sapete che vuol dire per una patologia sì vabbè ma non è quello il punto ma ovvio è chiaro l'intento sono i modi di Ercole lo usi come insulto diventa l'insulto dargli dell'obbeso davanti comunque live pubblicamente ma anche solo faccia a faccia cioè mi sa che non sapete cosa vuol dire dare dell'obbeso una persona che comunque ci soffre col peso ma non mi posso abbassare a un talo livello ragazzi sì ma oggettivamente su questo gioco è stato abbastanza impeccabile ripeto ma ma alla fine differenza dei altri anni in cui magari pure lui si incazzava passava dalla parte del torto cioè la cosa più semplice in questi casi è stare in silenzio e ribadire l'ovvio cioè rimarcare le condotte scorrette altrui quante volte ci hanno detto delle cose abominevoli ma la cosa vuoi aggiungere nel momento in cui uno ti dice eh ti dovrebbero levare tu fia che vuoi aggiungere cioè sei un ti definisci da solo con quello che dici no e quindi sì è chiaro ci servirebbe Batman eh un bel Batman andiamo a caccia di borseggiatrici ma a Milano eh carina l'avete vista? ora non ho visto bene se è bambino o bambina guardate a sinistra ma ciao che caruccia eh avevo visto un altro video di Batman e lui girava per lo più per Napoli ma questo è quello di cui parlava Angelo Greco no quello è quello del parcheggio no quello là è quello solo che non si è mai visto scrive con le bombolette lo chiamano Batman ma non è Batman al Duomo ah e qua a Milano io l'ho visto uno di Napoli questo è quello che scrive nei commenti Batman De Cento Cell che scrive sotto vabbè 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 pure questa è vecchia ho visto uno ma che è no ma che è sta rocca ma che cazzo hai messo sul gruppo eh no era questo no era carino no no aspetta 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 ok che cazzo è successo mi pare che non so se l'ho visto qua sul gruppo ma io ai videole sempre fa vedere il minore ma TikTok ma non era proprio questo va bene è un po' greve sta usando il bambino per follower comunque ho fatto dire come è un liquidato comunque no perché mi sa che era un bambino ma che cazzo vuoi ma dai Marco per favore no ma io l'ho visto lascia stare no non ho visto questa avevo visto guarda questo che ti interessa aspetta lui camminava per strada e quel bambino mi fai parlare quel bambino lo fermava gli diceva ciao se potremmo fare una foto con la madre e se le facevano una foto insieme in un altro video credo non so se è quello poi è morto vabbè possiamo tutti dire poi è morto possiamo tutti dire che questo possiamo tutti dire che questo vestito da pipistrella è un coglione presa male ma non questo del video è proprio Bruce Wayne è un coglione è sempre stato un coglione ma è morto prima o dopo la foto il bambino non lo so devo indagare ora la cosa mi ha turbato non so se dobbiamo vedere forza questo cioè Mattias no vabbè lo vediamo alle 21 dai è molto importante perché è uno sciopero di lavoratori di mondo convenienza no non è una cazzata è una roba seria ne parleremo stasera invece noi del Cerbero Podcast saremo in sciopero venerdì alle 21 e non della fame non della fame allora cosa molto importante mezzogiorno di fuoco questa settimana è spostato a giovedì comunque già c'è la live programmata su youtube quindi giovedì a mezzogiorno venerdì ci sarà solo la live delle 15 Ghioparto Gianluca non c'è un po' un casino quindi poi ci rivediamo direttamente lunedì detto questo ci vediamo stasera per tante altre notizie forza Napoli Napoli ciao 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 che squali state arrivà e l'ho crocian ciao 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 Mi sembra assurdo State pure registrando Aspetta tu cazzo